In studio Veronica Puglisi. Buonasera e benvenuti a una nuova edizione di MTG. Allontanata da scuola per un mal di pancia con il timore che fosse un sintomo del covid è accaduto ad una studentessa del liceo scientifico di Modica. La denuncia della famiglia è che la ragazza sia stata trattata immotivatamente come un caso covid. Noi abbiamo sentito il dirigente scolastico Sergio Carrupa. Il caso che ha coinvolto stamattina una studentessa del liceo scientifico Galilei Campailla di Modica indigna per le modalità con le quali è stato affrontato. Una giovane è stata mandata a casa per aver accusato un mal di pancia e domani potrà rientrare solo perché l'istituto è stato rassicurato dal medico di base il quale ha riferito che la ragazza non ha alcuna infezione da covid-19. Una studentessa oggi al suo primo giorno di scuola, considerato il periodo di alternanza con la didattica a distanza, accusato mal di pancia e ha chiesto di andare in bagno per essere poco dopo raggiunta dalla docente, la quale ha accusato la giovane di essere rimasta per troppo tempo alla toilet chiedendo le spiegazioni. Ma quando c'è un bisogno impellente non esistono giustificazioni, ma la docente ha invitato la studentessa a rimanere in bagno, avvisando la madre, chiedendole di portare la figlia a casa. Nel frattempo la ragazza è stata condotta nella stanza covid. Incredula la madre della studentessa, la quale ha riferito che non le è stato permesso neanche di ritirare gli effetti personali della figlia che, per motivi di precauzione, sono stati fatti trovare nel corridoio. Diversa la versione della scuola riferita dal dirigente scolastico Sergio Carruba, che però non era presente in quel momento nell'istituto, il quale ha invece spiegato che la ragazza è andata a casa perché il malessere si protraeva. Ma che motivo c'era di isolare la ragazza in una stanza covid e se non aveva alcun sintomo riconducibile all'infezione da covid-19? Che motivo c'era di mettere all'agonia la studentessa? Che motivo c'era di terrorizzare anche i suoi compagni di classe che si sono premurate a disinfettare i banchi? Il dirigente Carruba ha preso atto di ciò che è accaduto e ci tiene a sottolineare che non occorre fare allarmismi perché allo scientifico di Modica non c'è alcun caso di covid-19. Il dirigente, molto sensibile alle esigenze delle famiglie, anche molto disponibile, intende anche tranquillizzare alunni e studenti. La giovane, vittima probabilmente di un eccesso di zelo della professoressa, domani potrà tornare in classe anche con le garanzie del medico di base che è stato contattato dalla scuola. È importante però se per affrontare e distinguere i casi di covid-19 da un normale mal di pancia o da un'influenza perché il rischio è di diffondere la teoria del terrorismo psicologico, della psicosi, che può indurre ingiustamente a isolare una ragazza che ha avuto solo la sfortuna di accusare un mal di pancia durante una lezione. E se lo permettete anche di essere umiliata davanti ai compagni e mortificata dalla docente che oggi alla ragazza ha negato per un mal di pancia il sacrosanto diritto allo studio. Attendono l'esito del tampone alcuni studenti e alcuni insegnanti del Plesso Guglielmo Marconi dell'Istituto Comprensivo Filippo Treina di Vittoria. Intanto ha fatto sapere l'ASP, sono 98 i casi positivi in provincia di Ragusa, tre nuovi casi a Vittoria lo ha comunicato l'azienda sanitaria provinciale. Sono in attesa dei risultati degli esami le insegnanti e gli studenti di tre classi del Plesso Guglielmo Marconi dell'Istituto Comprensivo Filippo Treina di Vittoria sottoposti a tampone per accertare o meno la positività al Covid-19. Nel fine settimana 60 ragazzi dell'Istituto e 4 docenti erano stati posti in isolamento precauzionale dopo che una docente risultata positiva al Covid-19. I locali del Plesso, aveva sottolineato il dirigente scolastico Carmelo Laporta, sono stati già sanificati. In un posto su Facebook il dirigente ha ribadito che è stato immediatamente posto in essere il protocollo previsto in sinergia con l'ASP territoriale competente e con il Comune di Vittoria che ha prontamente predisposto l'intervento di sanificazione. Oggi, fanno sapere dall'ASP, ci sono tre nuovi casi a Vittoria. In provincia di Ragusa in totale sono 98 le persone positive al Covid-19 asintomatiche e in isolamento domiciliare. Sono sette le persone ricoverate in malattie infettive e uno in terapia intensiva. Nel fine settimana si sono verificati tre nuovi ricoveri all'OMPA di Ragusa, un giovane bengalese di 18 anni proveniente da Cartagirone, un cinquantenne e una sessantenne di Ragusa. Dall'inizio della pandemia ad oggi, ha comunicato l'ASP, sono stati processati 31.518 tamponi. Si dichiara contrario all'allargamento dell'hotspot di Lampedusa, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Il Viminale ha deciso di allargare l'hotspot di Lampedusa. Una decisione, secondo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che rappresenta una volontà criminale. Secondo il governatore è inutile smantellare i decreti sicurezza, il flusso migratorio va arrestato e le navi non devono partire dal Nord Africa. Ecco perché, secondo Musumeci, è più importante rendere decenti e decorosi nel rispetto alla dignità umana i centri d'accoglienza che già esistono, ma non si devono ampliare. E poi aggiunge che gli hotspot sembrano dei macelli mia e di persone sono stipate in spazi che per legge potrebbero contenerne al massimo 190, senza mascherine e dunque con una promiscuità disarmante. È una scelta assurda, è una scelta illogica. È giusto che ci sia un hotspot a Lampedusa, ma è giusto che sia adeguato, sia civilmente accettabile, sia dotato di ogni servizio e di ogni accorgimento necessario ad evitare il diffondersi del contagio fra gli ospiti. Ma pensare di ampliarlo, di ingrandirlo, significa non avere presente l'idea che ormai in Sicilia, e non soltanto in Sicilia, c'è un senso di stanchezza e di paura. Gli immigrati vanno accolti, vanno ospitati per il tempo necessario, quindi 24 ore, per il tempo necessario per poter poi essere ricollocati nei paesi europei. Questo è quello che deve fare l'Europa e questo è quello che dovrebbe fare il governo italiano se in Europa avesse voce in capitolo. Temo purtroppo che questo ruolo il governo italiano in questi momenti non lo abbia e non lo possa svolgere. Cosa ne pensa la gente della nuova ordinanza e delle nuove misure anti-Covid? La maggior parte è d'accordo, sentite. Entrerà in vigore il prossimo mercoledì la nuova ordinanza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che tra le altre cose invita la popolazione a indossare le mascherine anche all'aperto tutto il giorno, soprattutto se stiamo vicino a soggetti con i quali non abbiamo rapporti di convivenza o che non sono nostri congiunti. Cosa ne pensa la gente? La maggior parte ci dice che è una decisione giusta se si può in qualche modo limitare il numero dei contagi. Vabbè, in qualche modo dobbiamo tutelarci quindi sta cosa anche adesso sarà obbligatorio usare la mascherina se porterà comunque qualcosa, diciamo, di buono caleranno i contagi perché sia una cosa normale. Giusta, giusta. Un po' esagerata ma è giusta. Però o questo o ci tocca un altro tocco di amido quindi va bene così. È giusto portare le mascherine anche all'aperto? La nuova ordinanza dice questo. Ora come ora sì. È meglio portarle. Io ce l'ho qua, l'ho tolta pochi minuti fa ma adesso la indosserò. È fatta a fin di bene, quindi va bene. Quindi mascherine sempre? Sempre. Se serve, speriamo che serva. Sono tante le richieste che arrivano dai vigili del fuoco appartenenti all'USB. Samattina un sito in davanti alla prefettura di Catania. Sono diverse le problematiche che attanaiono il mondo dei vigili del fuoco come fatto notare questa mattina durante un non-sitin che si è tenuto davanti alla prefettura di Catania. Il territorio siciliano, come denunciano gli esponenti di USB, vigili del fuoco, soffre una cronica carenza di personale operativo e amministrativo in tutta la Sicilia. Di una sofferenza abnorme, con punte che si aggirano sullo 40% di mancanza di personale. Per questo motivo si chiede di sollecitare le assunzioni, i precari e gli doni ai concorsi pubblici. Sarebbe già un impulso anche per i nuclei specialisti. Tra l'altro la realtà operativa siciliana è tra le più complesse d'Italia per la presenza di insediamenti industriali di terziario avanzato di aeroporti di varie categorie e in ambito portuale diversi porti con un non consistente traffico di passeggeri e merci. Ecco perché servono persone e servono persone specializzate. Altro punto su cui si insiste è il rischio idrogeologico perché i rapporti annuali alla protezione civile regionale sullo rischio idraulico della regione parlano chiaro. Le stime sugli eventi e i danni sono in continuo crescendo. Qualche piccolezza è cambiata, tipo sono arrivati i mezzi, le APS che sono in mezzo portante dei vigili del fuoco, però ancora le problematiche diciamo che sono tantissime come le assunzioni, le assunzioni che permetterebbero di aprire quelle sedi che attualmente sono decretate e sono chiuse come Palagonia, Roccalumera, tantissime altre sedi nel territorio nazionale. Ricordiamo che riclassificare le sedi che hanno più di 1200 interventi come Caltagirone, Piazza Emmerina, Cireale e tantissimi altri distaccamenti che sono costretti ad ogni piccola emergenza a chiedere aiuto alle sedi più vicine anche per avere un mezzo di supporto. Parliamo dell'avvertenza strisce blu a Raguse i dipendenti della società Namtreeli hanno proclamato lo stato di agitazione perché da diversi mesi non ricevono la cassa integrazione in nero che l'amministrazione ha convocato venerdì la ditta e sindacati per capire meglio la situazione. È un contratto di diritto privato ma vogliamo tutelare tutti i lavoratori. Per questo venerdì incontreremo la ditta e sindacati per avere chiaro il quadro della situazione. Sono le parole dell'assessore alla Polizia Municipale Ciccio Barone che è intervenuto sulla questione dei lavoratori del servizio di sosta a pagamento a Ragusa dipendenti della società Namtreeli. I dipendenti sono in stato di agitazione sostenuti dalla Fisaskat Cisle. I lavoratori del servizio continuano ad operare in uno stato di disagio economico totale ha denunciato il sindacato. Ad oggi infatti hanno ricevuto solamente la cassa integrazione dei mesi di marzo, aprile e metà maggio 2020. La Fisaskat Cisle aveva chiesto un incontro urgente all'amministrazione comunale. Al fine aveva dichiarato il sindacato di evitare inutili quanto dannosi conflitti di ordine sindacale. A luglio, dichiarato l'assessore Barone, abbiamo incontrato la ditta e sindacati. Durante la riunione è stato detto che in virtù di un aumento degli incassi in questi ultimi mesi la ditta avrebbe ampliato gli orari di rieintegro. Vogliamo capire quali sono le intenzioni della società, ha aggiunto Barone, perché nostra intenzione è aiutare i lavoratori. Sulla vicenda è intervenuto anche il PD. A parlare i consiglieri comunali di Ragusa, Mario Chiavole e Mario Dasta. Riteniamo, afferma il PD, che soltanto attraverso il dialogo si possa arrivare a colmare quella consistente sacca di disagi che è stata denunciata dai lavoratori attraverso la proclamazione dello stato di agitazione. Riteniamo infatti, continuano i due esponenti democratici, che l'ente locale non possa più perdere altro tempo nel farsi parte dirigente è destinata a far ritrovare un'intesa che al momento sembra assolutamente incrinata tra la parte datoriale e il personale dipendente che, non dimentichiamolo, rende un servizio prezioso alla città. È stata fissata per giovedì alle 12 l'autopsia sul corpo di Gabriella Lula, 53enne di Ragusa, sulla cui morte la Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sul decesso avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 settembre in ospedale per capire se si tratta di un caso di mala sanità. Il caso è seguito dal sostituto procuratore la dottoressa Monica Monego che ha conferito l'incarico al dottor Giuseppe Ragazzi. Sono 5 le persone denunciate dai carabinieri di Via Grande per essersi appropriati indebitamente del reddito di cittadinanza tra i denunciati, anche un 58enne pluri pregiudicato per associazione di tipo mafioso come affiliato al clan Laudani. Ancora un 76enne che percepiva già la pensione di invalidità che ha falsificato lo stato di famiglia risultando solo anziché convivente con 5 persone e poi madre e figlia di 80 e 56 anni residenti anagraficamente ad Acci, Bonaccorsi nello stesso appartamento dichiaravano di abitarvi da solo ottenendo ognuno all'indennità. Infine un trentenne che abitava con ben 12 persone ma aveva dichiarato che fossero solo in 5. Controlli a tappeto per i carabinieri della Compagnia di Ragusa che hanno setacciato sia il territorio di Santa Croce e Camerina e il centro storico di Ragusa dopo le continue lamentele dei residenti che chiedevano maggiori controlli. 70 le persone identificate dai carabinieri della Compagnia di Ragusa impegnati nel fine settimana appena trascorso in una serie di controlli del territorio in particolare a Santa Croce e Camerina dove però non sono stati registrati particolari fenomeni emergenziali o preoccupanti. Tra le persone identificate anche uno straniero che è stato accompagnato negli uffici del Comando Provinciale di Ragusa per i rilievi fotosegnaletici in quanto non è stato in grado di declinare le proprie generalità in modo convincente nel momento del controllo. Sempre a Santa Croce e Camerina un albanese è stato denunciato per ricettazione perché sorpreso alla guida di un ciclomotore la cui targa risultava rubata. I carabinieri hanno poi setacciato in modo particolare la zona del centro storico di Ragusa che si è riempita fin dalle prime ore di sabato sera di numerosissimi avventori dei vari locali e ristoranti garantendo in tal modo il chiedo svolgersi della movida ragusana. Un uomo è stato segnalato alla locale prefettura in quanto sorpreso e in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale mentre un secondo condannato agli arresti domiciliari è stato denunciato per evasione dal momento che all'atto del controllo non si trovava in casa. Monitorate attentamente anche la zona del Siti dove quattro giovani albanesi sono stati controllati senza però rilevare alcunché ma anzi raccogliendo i primi risultati della positiva collaborazione intrapresa con il comune di Ragusa nell'ottica di eliminare le situazioni di degrado della zona. Complessivamente durante l'intero fine settimana i militari dell'arma hanno controllato e identificato a vario titolo 231 persone e 130 veicoli complessivamente oltre a svariati locali pubblici particolarmente frequentati come detto nel trascorso weekend. I soci titolari di un impianto di frantumazione inerte a modica sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Ragusa per le ipotesi di reato di getto pericoloso di cose emissioni di polvere diffuse in atmosfera di scarica abusiva deposito incontrollato di rifiuti e altre violazioni alle prescrizioni di carattere ambientale. L'attività ispettiva è stata condotta dai carabinieri di Catania allertati dalle numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano la presenza di polveri diffuse che si depositavano sulle aree private lungo la strada comunale. I carabinieri hanno appurato che l'impianto non era idoneo al contenimento e alla diffusione delle polveri per mancanza di idonei filtri oltre alla presenza di un'area con una vasca non impermeabilizzata di circa 1500 metri quadri dove venivano stoccati abusivamente i fanghi provenienti dall'attività di lavaggio degli inerti e un'ulteriore area quale deposito incontrollato di pneumatici fuori uso e bidoni di oli esausti. L'impianto è stato sequestrato. Le prospettive future rilancio economico di Pozzallo al centro di un incontro che si è svolto ieri un confronto tra Confcommercio e amministrazione comunale. Le prospettive economiche future di Pozzallo sul tavolo ieri nel corso di un incontro a Palazzo Lapila da una delegazione di Confcommercio rappresentata dal presidente provinciale Gianluca Manenti che al momento ricopre anche l'incarico di presidente regionale facente funzioni e del presidente sezionale Giuseppe Cassisi. Il sindaco Roberto Ammatone è l'assessore al commercio e turismo Giuseppe Privitera come amministrazione che sottolinea come Pozzallo rappresenti una città dalle notevoli potenzialità perché si affaccia in una zona strategica del Mediterraneo crucevia di scambi commerciali e internazionali. Un confronto a tutto campo in cui sono state affrontate le varie opportunità di sviluppo del territorio a cominciare dalle zesse e dalle ricadute che potranno esserci per il diretto e l'indotto. La specializzazione del territorio sui grandi temi del turismo e sulla possibilità di attrazione degli investimenti esteri ha affrontato anche il discorso relativo agli strumenti del welfare per le imprese a cominciare dal sostegno al reddito ai tutelari di impresa e ai lavoratori con i 75 mila euro erogati da Ebister che rappresentano un precedente considerevole in vista di futuri contributi. In questo senso l'impegno di ConfCommercio assicurato all'associazione dei sindacati dei lavoratori del terziario continuerà a essere sempre più importante un ruolo che si intende sempre più valorizzare nei mesi a venire ha detto Manenti. Il sindaco Matune e l'assessore Privitera si sono detti soddisfatti per l'esito del confronto e hanno assicurato tutto l'impegno dell'amministrazione nel portare avanti i percorsi di collaborazione che possono garantire ricadute importanti per lo sviluppo. In conclusione il presidente sezionale Cassisi ha aggiunto riteniamo che la collaborazione tra amministrazione e associazione di categoria debba essere sempre più sinergica facendo fronte comune. A partire da lunedì 5 ottobre inizierà ufficialmente il servizio di menza scolastica modica per usufruire del servizio è necessario compilare l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del comune e poi ritirare i blocchetti con i voucher pasto. I buoni si possono ritirare nell'ufficio competente di modica in vista del primo giorno di menza sarà possibile utilizzare anche i buoni rimasti dallo scorso anno e usufruire del servizio avendo già presentato la domanda con l'impegno di fornire il buono in un secondo momento si è deciso di separare la preparazione dei pasti in due cucine diverse ha dichiarato il sindaco Abate si avranno i pasti cucinati a ridosso della consegna e sarà possibile diversificare i menù in base all'età dei bambini. Cos'è mancato di più durante il lockdown ai giovani è uno dei temi della ricerca condotta su oltre 500 giovani della provincia di Ragusa di età compresa tra i 15 e i 25 anni dal dottor Giuseppe Raffa pedagogista coordinatore dell'ambulatorio anti-bullismi dell'ASP di Ragusa con il supporto dello statistico Giovanni Macca e della direzione generale dell'ASP Iblea. Ai giovani Iblei durante il lockdown sono mancati amici e fidanzati e fidanzate a dirlo è una ricerca dal titolo una voglia assurda firmata e coordinata da luglio ad agosto del 2020 dal dottor Giuseppe Raffa pedagogista coordinatore dell'ambulatorio anti-bullismi dell'ASP di Ragusa con il supporto dello statistico Giovanni Macca e il pieno supporto della direzione generale dell'ASP Iblea. secondo i dati al 52% è costato parecchio rinunciare agli amici mentre il 31% è costato non vedere fidanzati e fidanzate nella prova il fatto che al lockdown finito hanno dato priorità a rivedere gli amici il 56,16% degli intervistati mentre il 26% ha dichiarato che ha rivisto subito i partner tuttavia sono rimasti in contatto con amici e partner il 65,75% degli intervistati che ha dichiarato di aver trascorso la maggior parte del tempo durante il lockdown chiacchierando con loro utilizzando chat e messaggerie a oltre 500 giovani della provincia e plea d'età compresa tra i 15 e i 25 anni è stato chiesto cosa è mancato loro di più durante il lockdown cosa ha dato loro più fastidio se hanno percepito un cambiamento e come è stata la prima estate post-covid ai ragazzi per lo più tra i 17 e 20 anni nel 78% dei casi studenti e provenienti da Vittoria Ragusa Modica e Comiso è stato sottoposto un questionario cartaceo ma anche tecnologico tramite Whatsapp il 50% del campione ha dichiarato di non sentirsi cambiato dopo il lockdown il 26% ha rivelato di essere più altruista rispetto al passato solo il 10% ha dichiarato di aver utilizzato la forzata permanenza a casa per migliorare il dialogo con i genitori la cosa che ha dato più fastidio ai giovani costretti all'immobilità dal virus è stata il rimanere a casa per quasi due mesi una cosa insopportabile per quasi il 33% per il 15% circa è stato fastidioso rispettare le regole sanitarie per il 18% è stato difficile tollerare i sacrifici imposti dal lockdown mentre il 30,14% ha rivelato di aver provato paura per sé e per i congiunti il 49,32% teme che l'autunno possa portare una nuova ondata di contagi e solo l'11% dei ragazzi ha dichiarato di aver sentito la mancanza della scuola mentre il 61,64% del campione ha dichiarato di aver trascorso un'estate normale per il 40% circa dei giovani intervistati invece quello appena trascorso è stato un'estate matta e senza regole il 12,33% inizio estate ha pensato solo a divertirsi senza regole a bere alcolici secondo il dottor Raffa i risultati della ricerca spiegano un quadro controverso dei giovani blei post-covid che a differenza dei coetanei del nord del centro Italia manifestano un importante legame verso amici e famiglia si sono mostrati attaccati alle tecnologie come i coetanei di tutta Italia il covid ha probabilmente acuito questa situazione come i giovani del resto della penisola anche una parte dei giovani blei ha inteso liberare senza freni le energie repressi anche a costo di violare le regole e abusare degli alcolici una diversa sensibilità rispetto ai coetanei italiani si nota invece nella giusta paura che i giovani nutrono nei riguardi di una nuova ondata autunnale dei contagi secondo il pedagogista occorre ripartire dalle famiglie avviare corsi di informazione e rieducazione dei genitori azioni di pertinenza delle scuole cui spette il compito di costruire e coordinare pool di autentici esperti dell'educazione in grado di inculcare nei genitori i nuovi necessari metodi pedagogici adatti ai nuovi giovani ci fermiamo c'è qualche minuto di pubblicità tra poco la polizia di stato celebra oggi il suo patrono San Michele Arcangelo la polizia di stato ha festeggiato oggi il suo patrono San Michele Arcangelo con una celebrazione eucaristica presso la cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa ufficiata dal vescovo della diocesi di Ragusa Monsignore Carmelo Cuttitta insieme al cappellano della polizia di stato padre Giuseppe Ramondazzo presenti le massime autorità civile e militari della provincia ed una ridotta rappresentanza di appartenenti alla polizia di stato celebrazioni ufficiate nel massimo rispetto delle misure anti-covid consegnati inoltre dal questore di Ragusa Giuse Agnello alcuni importanti riconoscimenti attestati per il lodevole servizio al personale della polizia di stato che si è distinto in particolari servizi ed anche a Catania la polizia di stato ha celebrato con una santa messa in cattedrale alla presenza delle massime autorità civili e militari San Michele Arcangelo patrono dei poliziotti un'occasione oltre che di riflessioni e di preghiera che ha visto la consegna di alcuni riconoscimenti a poliziotti che si sono distinti in operazioni di servizio tra quelli che stamattina a Catania hanno ricevuto il premio San Michele Arcangelo il dirigente della polizia postale Marcello Labella un vice ispettore e un assistente capo coordinatore tanti cittadini che hanno deciso di partecipare alla messa terminati i lavori di riqualificazione è stata inaugurata ieri una bambinopoli a Ispica in via Colombo dall'associazione Parco di Matilde che opera nel sociale fondata in memoria della bimba ispicese scomparsa un anno e mezzo fa a causa di un male incurabile a soli sei anni l'area è stata creata a fine degli anni 90 ma negli ultimi tempi era in stato d'abbandono adesso gli spazi con i fondi in parte dell'associazione e in parte dei cittadini sono stati riqualificate compreso il murale se realizzato a suo tempo da Erika Belluardo riportata alla luce da Francesca Marina che ha inserito anche un disegno realizzato da Matilde presente all'inaugurazione oltre a Sindaco Muragli e Don Maglio Savarino il direttivo dell'associazione al parco di Matilde e i genitori di Matilde Pietro Frasche e Mariella Formica l'associazione opera nel sociale appena un anno fa aveva portato in dono ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale maggiore di Modica dei giocattoli per i piccoli degenti un gesto d'amore che vede i genitori della piccola oltre a persone vicine alla famiglia impegnati nel trasformare il proprio dolore in gioia e speranza per altri bimbi Matilde amava tantissimi i parchi giochi e da qui l'idea di rivalutare la bambinopoli ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti quelli che l'hanno conosciuta sarà ricordata sempre per la sua viva città la sua bellezza e l'allegria Nella serata di giovedì il prospetto del comune illuminato di rosa in occasione della campagna Nastro Rosa per la prevenzione oncologica che si svolgerà in tutta Italia è promossa con il sostegno del Lanci dalla Legge Italiana per la lotta contro i tumori e dall'AIRC per manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica il sindaco Peppe Cassi ha accolto la richiesta delle associazioni promotrici della campagna Palazzo dell'Aquila sarà illuminato del colore simbolo di tutte le donne e questa era l'ultima notizia grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata grazie per la visione